Proprio perché come ho detto fin dal primo giorno, io non sono uomo dei conflitti ma sono uomo del dialogo, come ricorderete, pur avendo consapevolezza dei gravissimi errori politici di cui porta la responsabilità il PD, come prima cosa che ho fatto rientrando al Guatemala ho lanciato un appello al centro-sinistra per aprire un dialogo. Non è arrivata nessuna risposta, ma siccome sono non solo un uomo del dialogo ma anche un uomo piuttosto paziente, ho rinnovato l'appello una seconda volta, proprio perché io, noi, abbiamo quel senso di responsabilità politica che difetta invece al PD. Perché noi siamo stati molto chiari, se il PD avesse voluto un patto di desistenza doveva venirci incontro, non potevamo soltanto noi venire incontro al PD, il tema è questo. Chi è responsabile di questi disastri in cui versa oggi l'Italia? Il governo Monti e il governo Berlusconi. Con chi noi siamo, rispetto a chi, siamo del tutto alternativi? Monti e Berlusconi. Dov'è che il PD ha dimostrato di non voler fare accordi con Monti? Mai. Anzi. Proprio nei giorni in cui Bersani avrebbe potuto chiedere ed incontrare il leader di rivoluzione civile se avesse voluto aprire quel dialogo, mentre aspettavo quindi di vedere Bersani, ho saputo che Bersani incontrava Monti e non si è neppure degnato di una risposta ai miei inviti.